video dei tramezzini male 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 perché l'hai fregato e l'hai trasformato in un cosa maggiorani che è assolutamente scorretto l'hai deciso tu io volevo fare i panini quindi l'hai deciso te a quel punto ti prendi tutte le responsabilità del caso e voto come Atrix te lo meriti 4 e mezzo piano Nanni non ti voglio sentire è giusto così e chiunque può dire che sia giusto così ci ritiriamo su con dei fritti fa chiunque da questa assume già da per vero il parere di utenti invisibili inesistenti se per posso permettermi scusa mi è te l'hanno già detto che quel quartiere è la scopaia e non salviano ma mi porto una sega di divorno e quella città di merda le carte che ci abitano su google c'è scritto e salviano e si dirò salviano no se c'è scritto su google oggi oggi fritti fritti se fritti criminali livorno che abbiamo tre posti dove mangiare i fritti che siano buoni in anni che siano buoni perché io mi tremano le mani guarda questo poi lo faccio vedere all'avvocato e al giudice lì c'è gagarin giulia grosbo era giulia però per forza 32 ti lascio i soldi vai a prendere delle cose che siano buone ti prego dovrai vabbè quanto è speso scusate un secondino di ero che perché ero ero entrato nella parte ero entrato un secondo nella parte so quanto pubblico di youtube capirà queste cose però ci sta insomma allora sono callamari e gamberi e una paranza me l'avevano fatto lo scontrino e ai ragazzi a parte le cazzate me l'hanno fatto e me lo so me lo so scordato cioè me l'ho buttato via tipo c'è scio fracchino ti manda a comprare tutto lui e tempo di cira un video e mezzo proprio ti ritrovi gli spiccioli sembra essere in chiesa in tasca con 600 fogli e pesce a vederlo sembra fresco quando l'ha tirato fuori ragazzo e l'olio era molto pulito no ma si c'è una cosa molto buona che spesso e volentieri viene viene omessa esperienza e che visto che glielo lascio l'ho lasciato da studio chiesto da sporto non ci ha messo il sale e poi mi ha dato le bustine perché sale fa ritenzione idrica ma è certo e poi sbava nella scatolina c'è già il fritto con la scatolina chiusa da sporto fa caldo evapora assolutamente ovviamente se vuoi assaggiare abbondantissima e poi c'è anche due bottiglietti d'acqua nel prezzo ovviamente merluzzetto è buono la frittura è buona vabbè ma se mangi male il pesce al livorno ti resta in campione la frittura è buona è abbondante chiaramente 21 euro ragazzi il costo diciamo era alto però so porzioni c'è 11 euro la scatolina ma c'è piena zeppa la roba è comunque non te le prendi mai due da mangiare te ne prendi una se vuoi pranzare due so due non c'è fai pranzo cena e il pranzo giorno dopo quasi stanno calamari gamberi ok qua c'è il cazzino molto abbondante e 40 roba c'è che poi buona senza sale poi si tratta da nelli fatti inzò calamari questi sottotanelli però buoni senti morbidi si sciolgono in bocca non si sente troppo l'olio la frittura è buona bene si è buona e piacevole come si chiama siamo fritti siamo fritti ci prende un bellotto perché trovo l'abbondanza della frittura delle fritture al prezzo congruo la frittura è buona l'apparanza è fresca i totanelli sono che in mezzo la gentilezza per voi è un video perché è vero sono pure gentili puliti e carini puri gentili puliti carini il sale 8 più delle cose 8 più dai ci sta avete mezzo tramite ma cominciamo bene 8 più super pieno beh vabbè bravita 8 più più allora io 8 più più allora ascolta guarda più più guarda bene franchino se te non la smetti di dire super pieno nei voti che sono a metà io ti giuro che ti picchio ti picchio allora ti sparo allora allora levo il super 8 più più pieno fritti prima che i livornesi si risentono è tanto chi ha avuto l'unico coraggio a dirglielo è sempre a immolarsi per quegli altri qua siamo ve lo dico subito johnny paranza ce l'abbiamo segnato ma johnny paranza è un persona una persona che comunque sta aperta alcuni mesi altri mesi se ne va in giro quindi così mi hanno detto e comunque oggi infatti è chiuso abbiamo visto che c'è sia il ristorante che il chiosco il chiosco apre solo il sabato tipo o il weekend così c'è scritto su google almeno così c'è scritto google il ristorante apre la sera quindi prima che ci stanno mille commenti dei livornesi non siete andati da johnny paranza dove vive questo vai a casa è chiuso esatto e se invece non siamo andati nel vostro posto preferito andatevene si può dire non si può dire tipo tre minuti fare prendi questo cazzino non si può dire vaffanculo per andare dove poi si torna indietro perché dovevate iscriverli magari e consigliarli qualcosa che poi esatto tutti dopo non incolpate me se non sono andato nel posto buono e portate solo voi la prossima volta non mi rompete i coglioni diventate famosi e belli e bravi quanto me e poi avete la possibilità di andare in giro con franchino altrimenti zitti e muti plebei di merda ah non sei andato dimmelo prima dimmelo oh nini serve per sgrumare questo che è questo è conetano marchigiano a caso serve per sgrumare questo e doveva colpare e doveva colpare un po misto di accenti e come si dice non lo so cosa non lo intende polivornese sgrumare 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 cosa vuol dire sgrumare eccoli è scrostare ah eh scrostare scrostare sgrumare 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 si vabbè anche comunque siamo arrivati nemici si sa qui pregitoria dal tibu siamo in bro sono le più votate su google eh ne invia calza bigi numero 82 si chiedo sia tibu cosa hai preso quanto hai speso allora speso 8 euro vabbè dai 21 di prima siamo ritornati sì 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 allora vi dico subito che il ragazzo che lo gestisce ha detto che si sta trasferendo comunque alcune cose non ce l'aveva non tantissimo ah si sta proprio trasferendo proprio certo sì 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 no adesso però nel giro di penso di giorni ma che so cale di granchio no allora no sono gamberi croccanti e qua ci sono cale di granchio ma questo è il laboratorio e questo l'ho preso io gli ho chiesto c'aveva solo roba così regà e non è che ho preso male io c'aveva solo roba così stava chiudendo il negozio e voleva spostarsi e aprire un tabaccaio cioè questo è quello che mi ha detto ragazzi che gli ho fatto ok cosa c'hai quello 8 euro 4 euro 5 granchetti cioè io poi ho chiesto quale sono perché c'aveva il cartellone con i fritti con le mozzarella sticks e poi faccio questo oppure questa roba qui che era tipo prodotti in busta di Giovanni Rana fritti una roba del genere ho fatto cosa c'hai di fresco e questo è quello che mi ha dato e sono 2-5 cale di granchio gli ho chiesto le cose che aveva fresche quindi questo è quello che gli ho chiesto fresche? ma santo il c... santo... santo il... santo il... santo il santo il santo dei fritti il santo dei fritti questo è il laboratorio però le cale mi sembrano di sigla anche se lo meno no i granchi no ma questo questo è il laboratorio però te dici? però te dici? sono quelli dell'olio che ne it questo è il laboratorio che le fa per il laboratorio che le fa per un laboratorio che le distribuisce a... si l'alvatore al quadrato si guarda che faccia schifato però c'ho una buona recensione io ma buona recensione di chi? dell'universitario? non lo so di Atrix certo che se c'è va a mangià mattia è buono si è buono se mangi i cornetti la dolce nonde questo non sembra male ma è di laboratorio anche questo ma è di laboratorio anche questo sembra di sì si sembra di sì sembra che abbia anche lo stesso sapore della chela si no è lo stesso sapore hai capito? del granchio gambero e granchio hanno lo stesso sapore ma hanno lo stesso impasto guarda ah no forse era fresco di frigo sì sì no ma non avete capito cioè so che sembra paraculata ma non è che io ho scelto in quel posto le cose sbagliate erano solo robe così cioè c'erano tipo i mozzarella sticks i chicken nuggets la roba in busta di Giovanni Rana cioè era tutto così era tutto così io anzi ho specificato vedendo il cartellone ho detto ora esco e non prendo nulla e ho fatto vabbè fammi provare gli ho chiesto se avessi avuto qualcosa di fresco nel senso qualcosa di non di laboratorio fondamentalmente cioè di fresco è inteso in quel senso a Livorno o quantomeno granchio di solito si sente comunque il sapore vabbè sicuramente questo arancione così nanni ma che video è voto 4 un disastro franchino sei troppo forte si fai come se fosse mio il video anche lì chiaramente ve lo dico anche a voi anche se sono sicuro che lo sapete già però magari qualcuno di voi non lo sa vi dico che ovviamente io non vivo a Livorno e soprattutto a franchino i giorni prima settimane prima gli ho mandato una lista di posti e dicendogli fra guarda su google quale ti ispira di più e proviamo lì a parte quei due che conoscevo vedi Gianni Paranza vedi fritto il fritto che abbiamo fatto all'inizio che era molto buono e che so essere molto buono e quindi poi cioè è anche quello il format cioè nel senso vai un po' a caso o quello che solitamente tipo google ti consiglia perché poi neanche ce ne siano miliarde e mezzo di frigitorie aperte a pranzo di mercoledì a Livorno cioè non è che sei a Milano a Livorno mercoledì a pranzo lavora solo la minonna probabilmente quando spazza in casa male dai questo è arancione tuta dell'ana a livello di contenuto sti video sono 100x quelli normali no ma perché devo dare un altro ammazzo dai su voto dai voti ti direi quattro eh stavo a mangiato che comunque era di pranzo bro e la roba la compri e due morsi glieli dai e mezzo cinque ah io stavo avrei detto cinque 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 perché magari per schimicare però non è c'era altra tantissima roba eh lontano quello sicuramente ma tanti tanti arancini arancini insomma come si chiamano e che vuol dire come si chiamano si chiamano arancini se sono arancini sono arancini che vuol dire come si chiamano sono arancini non sono arancini rotondo che vuol dire quello tondo vabbè arancini calamari roba varia c'erano acciughe fritte che sicuramente erano buono però la maggior parte erano prodotti congelati millanta che fa il cuoco dai facevo per questo ho smesso non fa una piega non fa una piega ma sei vabbè raga allora ditemi come si dice arancino arancini arancine o arancin ditemelo come si dice arancine non si dice sborra arancino c'è chi lo chiama arancino c'è chi lo chiama arancini c'è chi lo chiama arancine non me ne fotte il cazzo non so io dove lo chiamate voi non me ne fotte anche un cazzo sinceramente come lo chiamate un degno compagno di merende di mattia attrice ha detto anche attrix infatti hai preso lo stesso voto suo secondo me voi siete proprio due commensali perfetti che dovreste andare a mangiare da soli poi capito c'è questa fisima come se io andassi tutti i giorni in quel posto è la prima volta che c'entravo mangi male ma che vuoi da me ma che c'è mai stato questa roba assurda è oh mattia l'ha portato dove andava a pranzo che vuoi da me io abito a pisa voi due voto cinque dai siamo d'accordo su questo ma a parte me ma ti scherziamo cinque siamo la terza speriamo che sia decente buona nanni e secondo me gli dobbiamo anche perdonare il fatto che magari si sta trasferendo sta chiudendo ma non credo che mancherà quindi qui in zona no penso di no allora ragazzi due cose da da chiedere è il pezzo più difficile ragazzi spero che siate pronti dire ovviamente a Livorno se ti siedi a un ristorante ti metti seduto e fai il pranzo ti mangerai dei fritti fantasmagorici noi come al solito stiamo cercando di fare dello street food dei fritti che comunque ti puoi portare via veloci e mangiare in strada al parchetto su una panchina qua stiamo in una piazzetta che l'hai vista la via? la via si chiama via 843 e siamo nel quartiere Salviano che è vicino al mare si vicino al mare e mi sento pure a Roma perché c'è questa piazzetta che lì c'è il parchetto dove ci mangeremo attenzione eh i Livornesi ci tengono a specificare non è Salviano è la scopaia eh cioè si parla veramente di penso un marco marciapiede e mezzo di distanza però sottolineiamo questa cosa perché per i Livornesi è molto importante è la scopaia il quartiere la scopaia non Salviano che è tre marciapiedi e mezzo accanto due siepi e quattro ramoscelli il posto si chiama il ristoro di Andre il ristoro di Andre frigitoria si e dove sta? ci tengo a sottolineare il nome del locale eh frigitoria nel nome proprio c'ha potrebbe essere quello qui c'è il veterinario c'è l'estetica c'è la banca ci stanno i studi medici guarda secondo me è tipo quello la c'è la cartoleria lì c'è il bar ma poi c'è che è dentro il Conad dentro il Conad? google maps mandava puntava il Conad Conad city ah no eccola qua è questa qua ristoro ce la insegna eh? ristoro frigitoria ma se chiedi una frittura da sporto te la fanno sicuro una di ore 13 a pranzo eh attenzione è una frigitoria c'ho scritto va bene va aspetta che ti do soldi ce l'ho 20 minuti ti ha fatto aspettare fratello 20 minuti a aspettare fuori sono stato c'è sì c'era un ristorantino piccolo c'era tipo una tavolata tipo una decina di persone e altre top un'altra decina top 20 persone a sedere al massimo eh nel ristorante ventitoria e raffitto il fritto non ci credo non ci credo non ci credo ma questi video sono drastici 13 euro ah c'è dentro sì 13 euro per cosa? 13 euro per un primo e un secondo ah perché quindi non è più video fritto dai è l'ultimo posto ma è tutto in me eh ma è lo sai che quando vieni con me è così ho capito ma è cioè che ore sono no? perché ma che non ha più senso il video ma scusami eh è l'una e mezza siamo arrivati qua l'una e mezza è l'una e mezza siamo arrivati si chiama frigitoria come fai aver finito il fritto? ma che cos'è poi questa? questa l'ho preso penne mare e gnocchi e bietola e bietola seppi e bietola va bene si fa un po' un mix tiè ma che pieto è? ma questa non è una seppia questa è un seppione di quelli atlantici quelli grossi il posto non mi sembrava molto alta cucina dai manco male cucinato bene la qualità del pesce è scadentissima certo se diciamo i frigitori all'una e mezza è fritto il fritto solo qua può succedere e questo è come il bar davanti al porto che mercoledì all'undici e mezza è chiuso eh cioè questo è Livorno e più nemmeno non poteva andare via e basta vabbè però è l'una e mezzo cioè già non ci sono locali aperti dalla mattina alle dieci e mezzo che siamo a Livorno cioè ci sono tre posti aperti a pranzo a tutta Livorno appena esci fuori dal mercato non esiste più nulla a meno che come ha spiegato nel video tu non vada pranzo nel ristorante cosa che però non facciamo noi perché altrimenti il senso del format del video si perde è chiaro che se vai sul ristorante al mare e paghi 20 euro in fritto lo mangi buono chiaramente questi sono i posti che abbiamo trovato prima che consigliavano comunque fritture anche da sport volendo all'una e mezzo arrivi qua cosa fai? ok te ne vai e poi dove vai a cercare il terzo posto per finire il video? da nessuna parte cioè quindi lo fai comunque 6 euro ma si vede la porzione comunque abbastanza abbondante che hai preso questo che era? penne mare che vuol dire penne mare? è penne di mare ma ci stanno i carciofi? si le fanno anche i carciofi qua ma che è sta roba Nanni? una cosa un po' toscana pasta di mare coi carciofi ma che hai preso? ma che è? cioè del cozze cozze, salmone, carciofi beh l'altra alternativa di pesce era gamberi e zucchine cioè sembra cosa la mia nonna la pasta è scotta non so di niente è sciata si ma scotta tipo di un po' danti 3-4 minuti eh e ho preso l'ho preso e si è fatto il video eh non è che ce lo siamo portati in giro ma che cos'è? questa è uscita dalla padella ora un secondo fa tempo di pagare stiamo assaggiando si ma questo video è un disastro no è buono quei carciofi che faccio di quello di Atrix? quella non era buona però si usa il carciofo come quello di tramezzini cioè sono video disastrosi meno male il primo fritto il primo posto non mi starei mica dicendo che si scende verso il 4 si no si Nanni 4 no no ti prego si Nanni 4 si Nanni 4 hai preso meno di Atrix dai ti prego si Nanni 4 Nanni 4 meno di Atrix Nanni ti dai 50 euro dai veramente giudica tu oh dai che voto ti dai questo? ma continua con questa roba che dai il voto a me oh io no non ci sono mai entrato in vita mia in quel posto ma cosa c'entro io? ma danno a loro il voto ossessionato con sta roba fra allora senti secondo me c'è da fare delle considerazioni se ti chiami Friggitorina non c'è il fritto da uno e mezzo è zero è zero a prescindere da quello per la roba che c'ha considerando comunque che Salviano è uno dei quartieri popolari di Livorno fate conto mi ci hanno trovato il motorino rubato sotto casa Pisa qua in questo quartiere rispetto per gli amici Salviano che poi è la scopaia quindi tot chilometri il ristoro è così i prezzi sono modici è uno di quei infatti sono tipo posto pranzo per i muratori però questo non giustifica il fatto che comunque la roba può essere fatta bene scosce la pasta non basta tirarla su due minuti prima e saltare in padella e quindi io non so voto 4 quello che do io a te Nanni ma questi due video a Livorno saranno un disastro si si aspetta quello di Pisa che sicuramente sarà meglio Livorno vince sul 5 e 5 sulla torta a mani basse rispetto a Pisa ma poi scusatemi si mangia meglio a Pisa no eh no così non lo accetto scusa non siamo andati nel ristorante di pesce però eh no io t'avevo proposto l'anno eh sì eh no guarda la migliore una volta sono capitato qui a Livorno e mi è capitato di mangiare ad un ristorante al porto e non ho mangiato affatto bene sei mo e ti ricordi quando ero piccolo no stiamo parlando di sei mesi fa lo sai quella volta ero andato sì io una un giorno guarda che una volta Annalisa eh mi piace mi piace una menzione di una storia eh io lo sapevo cosa intesi sei mesi fa se andavamo all'Aragosta eh non lo so allora io franchino t'ammazzo quante volte te l'ho detto di andare all'Aragosta poi andiamo all'Aragosta è sul porto beh è buono si mangia bene fanno il cacciucco come Cristo comando c'è l'associazione cacciucco Livorno cioè le linguine all'astrice sono assurde sei se non vuoi andare all'Aragosta andiamo a quella accanto che non mi ricordo come si chiama c'è un ristorante proprio accanto cioè qua qui c'è il ristorante Aragosta fai tre passi e c'è un altro ristorante che fa dei fritti devastanti questo qua si paghi un po' di più però ti mangi fritti e tira dei coglioni ci ho detto miliardo di volte vuole andare nei posti di merda e poi mi da la colpa a me a livello di street food male a livello di street food male male perché i fritti prima il secondo posto nanni di laboratorio cioè quelli che ti compri i tuoi al bustone al supermercato e te li friggi a casa non c'è motivo che li vendi cioè di che stiamo a parlare ma senti cosa dici a fine video eh il coglione no l'unica zona l'unica isola felice di Livorno è il mercato e i posti che gravitano intorno al mercato centrale di Livorno si e basta appena esci da quello sei spacciato perché poi per il resto è uno scam sei spacciato guarda il video dei tramezzini guarda questo video dei fritti che addirittura non siamo riusciti a concludere i fritti e ci siamo dovuti accontentare di una pasta scotta e di quella seppia atlantica che so quelle seppione grosse così che era immasticabile quindi dai di che cosa stiamo parlando cioè nel senso sulla torta Livorno vince su Pisa a mani basse a livello dei street food a questo punto preferisco la pizza pisana o altri prodotti pisani mangio meglio a Pisa a livello di street food si si è uscito da zona mercato per l'altra sera da Orzo Bruno mi sono mangiato una piadina un panino decoroso Orzo Bruno è Orzo no Orzo non è che hanno scritto Orzo con la Z ha scritto male è Orzo perché fanno la birra Orzo la sa quel prosciutto buono il fatto sai cos'è che il Livornese non ci ha voglia di fare un cazzo e a pranzo chiude apre solo la sera è così perché è impossibile che a pranzo non ci sia nanni quattro basta nanni quattro adesso che fai? vai a prendere la tua fidanzatina davanti alla scuola? no adesso ti do una margherita te la metto qui ma io non sono meno n il Livornese mi piange il cuore aver visto così poco valorizzato la cultura coloniale della città di questi video che fa schifo al cazzo collatelo perché a Livorni non ci avete voglia di fancazzo siete i napoletani del nord guardate e rosicate esattamente come i napoletani almeno li mangiano bene e la hai amoi nanni si è dimostrato un pessimo scerone scazzo conoscito della cuscina di Livorno e non uscerà meglio Tumaco quella puttana l'ho trovata a fa' bocchini allo scogli con il granchio che li pinzava la topa di Ocane perché pensava fosse un altro favollo peloso non mi rompe i coglioni un abbraccio dalla Calabria un abbraccio alla Calabria con la K che io dovrei leggere dovrei perdere tempo a leggere questi commenti un abbraccio dalla Calabria con la K questo 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 mare matto non esiste nelle cose non esiste sai quante ricerche ho fatto? cos'è il mare matto? ma chi 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 ma dov'è? ma cosa è questo posto? è una baracca ma che ne so io che c'è mare matto scusami gli ho scritto Fritti Johnny Paranza che era chiuso Frigioteria Ristoro da Andre che mi pare fosse chiuso se non sbaglio oppure non c'è voluto andare lui siamo Fritti e siamo andati era buono Tibu che era votato buono su Google e poi gli ho scritto Cacciucco barra Fritti Aragosta e Andana degli Anelli scritto mi sto comunque informando te controlla su Google se ti ispira qualche posto ora vedo me lo studio risponde lui poi gli segnalano tot panini tot posti che io stesso gli ho segnalato diversi posti dove mangiare un panino e lui decide di fare un video di tramezzini e per poi dare la colpa a me attenzione aspetta Frigitorie a parte Johnny che chiosco chiuso e risto questo è come scrive Franchino apre solo la sera le altre segnate aprono alle 11 quindi una bomba fatte ottimo quindi vuol dire che lui è andato a controllare su Google e l'ha visto dove sarebbe andato a finire guarda guarda scrive lui comunque risentendomi i vocali tuoi hai parlato di due bar per i tramezzini sbaglio? no perché tramezzini è una vita che non li porto sul canale e fanno sempre bene a livello di views a sto punto se ho capito bene basterebbe tirare fuori una terza gastronomia con i tramezzini facciamo quelli al posto dei panini quindi tramezzini criminali e poi fritti criminali in questo modo facciamo sicuro video easy e torniamo a casa tramezzino pronto si entra e si prende panino tocca aspettare e lo facciano è più complesso e lungo aspetta chiedo ad un ragazzo di Livorno non ho di consigliarmi delle altre tramezzinerie o comunque bar dove fanno tramezzini buoni mi dice due o tre posti tra l'altro vattene a fanculo Giacomo che facciano tutti e tre schifo scrinno scrinno tutto qua eh scrinno e gli fa e gli scrivo sotto mai stato io eh da prendere con le pinze risposta di franchino vabbè quello che viene ma sniccio ora è colpa mia perché sniccio cioè mi sono preso degli insulti da Livornesi degli insulti da tutta Italia un quattro e mezzo in cosa mangiananni che non era un cosa mangiananni cioè non c'era scritto neanche nel titolo i posti che ha scelto lui i format che ha scelto lui e pure del molestatore mi sono preso a fine video è colpa mia ho capito allora la prossima fiera io vado da billy bell e le tocco le tette e se lo dice qualcuno non ha snitch funziona così in la vita? allora raga lords mobile ultima settimana ormai il gioco lo conoscete siti builder mobile eh con vari minigame sia pv che pvp battaglia sincrone possibilità di reclutare truppe e esercito mappa con le gilde e il pvp eh l'evento è per la festività delle gilde ovvero dove la gilda mia gilda quindi quella dei naniers che mancano dieci posti per fullare se volete e quella di dada sfidano eh quella di mare sturniolo e quella di muso a fine di queste quattro settimane le due potenze sommate delle due gilde si scozzeranno c'è chi ce l'avrà più alta vincerà appunto le due gilde vinceranno e poi a loro volta all'interno i membri quelli mi sembra i primi 20 15 che hanno la più potenza vinceranno roba come buoni amazon da 100 euro jet in game eccetera eccetera il gioco ormai credo insomma lo conosciate benissimo e racchiude più più modalità ripeto pvp pvc city builder emissioni giornaliere allora praticamente sì vi sposto la cam praticamente i commenti si dividono principalmente in due macro filoni incredibilmente divertente con varie offese ironiche quella e napoletani del nord quindi non si si può definire si può definire anche in altre categorie in altri modi ovviamente però ci sta ora i cobetti franchino dove stai andando a giro per livorno con un pisano effettivamente hanno ragione perché nel senso io sì sono nato a livorno ma ho abitato sempre a pisa quindi effettivamente di livorno non conosco un cazzo ciao ti seguo da tempo e sei bravissimo però ti invito a tornare a livorno perché sei andato in posti totalmente sbagliati ti ha portato in posti che non ci combinano l'amico livornese fra l'altro molto simpatico vabbè almeno questo non sei andato dove si frigge siamo letteralmente andati in tre posti che hanno frigitoria nel nome o fritto nel nome quindi solo che una era una merda con la roba congelata e l'altra era praticamente finita la frittura e non ce l'avevano neanche senti ragazzo annanni abbandonano in autostrada duilio diluvio è un vecchio con una pipa in bocca al livorno ci devi andare con un livornese questo era tutto tranne che di livorno cesare biasci ma non avevi detto di essere braccato da forze oscure cerchi solo visualizzazioni nel video chiaramente viene specificato che siamo la mattina molti posti sono chiusi ma quelli che abbiamo provato nessuno di loro li conosceva a parte uno il primo che era buono poi c'è stato specificato che ovviamente non potevamo sederci a tavolo a pranzo perché il video era più incentrato su una roba diciamo da sport quindi non dico totalmente street food però bene o male si penne mare con carciofi e seppe e bietola non fare scegliere a nanni mai più nulla ti prego un disastro assoluto nanni 4 meno meno super pieno bro il menù aveva seppia e bietola pasta amare pasta gamberi e zucchini e tipo la cotoletta fritta cioè cosa devo prendere non neanche la cotoletta c'hava tipo l'arrosto che cazzo ne so livorno si deve riconquistare la sua la tua fiducia vediamo se lo rifà coi fritti un lucky comunque questo amico ha del fanta trash non è possibile molto poco affidabile risponderò a tutti con questo commento nanni scandaloso dai zio canne non hai fatto i panini peccato risponderò con questo nanni maremmo impestato ladra ma dove lo hai portato t'avessi in culo ti andrei a ca alla melorie alla meloria tra l'altro ti porto io franchino che in nanni ti porta in giro random tanto vale che ti portava la mensa della stazione ma cristo iddio ci sono tanti posti rinomati oltre a johnny paranza mi è andata sfiga su johnny lo stricaio chiuso la persiana un ristorante il romito un altro ristorante mela fumo fai i panini al ristorante lo striconda un ristorante borgo burger fai i panini al ristorante stone lunch place un ristorante la filetteria un ristorante borno carni non so dove cazzo sia c'è la cazzo ma carne siamo fritti misti e il chiosco di mare matto e ancora con sto chiosco di mare tutti con sto cazzo di chiosco di mare matto io se volete saperlo franchino non ce lo portai perché un giorno ci andai a pranzo e mi cai addosso la sera ora sicuramente non sarà stato per colpa del loro pesce però la giornata non si conclusa nella migliore dei modi anni fa magari ho avuto sfiga magari ho preso freddo in scooter tornando a casa magari ho mangiato qualcosa a cena che invece mi ha dato fastidio non è sicuramente colpa loro però ho schippato totalmente rispondiamo dai de ma ti fai cozzare i posti da Livorno da uno che sta a Pisa cambia nulla in realtà sono 20 minuti di macchina prima è stato 200 anni in Australia ma che si guarda le recensioni su Google a Livorno si siamo nel 2023 ma si chiede all'amico o al parente franchi anche te però nel 1200 primitivo praticamente cioè devo chiedere non so dove andare a cena esco fuori di casa per andare a cercare la gente per andare a chiedere qualcosa per andare a cena hai detto bene al limite qualcosa nei noressi del mercato nei pressi del mercato per esempio qualche banco buono di pesce banco formaggio poi Livorno è tutto uno scama meno male casa Stillo riesce a capire perché ragazzi cioè onestamente al di là delle cazzate del meme bro i Livornesi sono i napoletani del nord o del centro nord sono la stessa identica cosa solo che a differenza dei napoletani dove magari hanno davvero la roba da mangiare buono a Livorno ce ne sono pochi di posti cioè gente che non ha voglia di fare un cazzo che non lavora e quando cazzo vuole loro fidatevi eh cioè voi andate domenica a Livorno in centro nella via principale nel giorno in cui d'estate una città di mare nel giorno in cui le navi da crociera attraccano 3-4 navi di crociera al porto piene zeppe di turisti e tutti i negozi della strada principale o il 90% sono tutti chiusi il sabato e la domenica e quindi i turisti scendono a Livorno fanno un giro di mezz'ora vedono che non c'è un cazzo prendono la letta e se ne vanno appise a Firenze e il Livorno se stesso è la stessa persona che si lamenta che non c'è turismo a Livorno cioè praticamente Livorno i Livorno e i Livonessi vivono sotto una grande cupola di cristallo di quelle dove c'era neve dentro che scoti ok e non si rendono conto della decadenza della loro città e sono rimasti agli anni 80 praticamente bro non ti azzardare che dire qualcosa di Livorno sia brutta perché ti scuoiono vivi eh sono permalosissimi sul Livorno solo sul Livorno poi mamme offese Budello di Gesù Budello di Tumati Trombola sorella Palle Palle Mosche se li tocchi il Livorno ti scuoiono io ragazzi succedono veramente ste ose eh cioè d'estate se c'hai un posto famoso di boh mettiamo gastronomico ma da tutte le parti ehm in centro che hai i suoi orari d'apertura se quel giorno il proprietario vuole andare a mare il negozio lo chiude e va a mare cioè ne frega nulla è proprio totale anarchia a livello tra virgolette commerciale a parte che in Toscana a parte Firenze la gente non sa cucinare e i Fiorentini considerano cucinare carne cruda se poi conti il fatto che non ci hanno voglia di lavorare che due su tre intergistrante ti trattano male bah da tutta parte è vero effettivamente eh god damn vedi ha Franchi fatto lo dire da Pallavetano si dice arancine ni no arancini quindi lo sapevo io che ci sarebbe stata anche questa guerra non per di ma l'hai trovato l'unico che ti ha portato in posti vergognosi per screditare Livorno Franchino dairetta cerca qualcun altro ben colla c'è ma Nanni è fuori penne mare nel video dei fritti le chelle del granchio sono sempre fatte con sudimi laboratorio c'erano acciughe fritte ma no meglio di no boh è pure cuoco povero Franchino esasperato da Nanni e allora uno nel nell'ultimo ristorante e tra parentesi come diciamo nel video i fritti erano finiti alle 13 e 30 con il ristorante pieno ed aperto punto e virgola 2 le acciughe fritte erano prodotti congelati allo stesso modo delle che le 3 Nanni ma adesso è un pagliaccio vabbè non si sponda mi piace ma questo qui è peggio di Atex giusto su Google aveva buone recensioni Franchino Menaie vabbè c'è la maglia dell'Inter è ritardato Viagiotto il quartiere della Leccia a Nossalviano eccoli qua i commenti che si lamentano del quartiere con gente che dice che è la Leccia gente che dice che è la Scopaglia gente che dice che è Salviano cioè questa roba è assurda bro eh è assurda ti rendi conto che noi siamo stati qua? bro cioè non so se c'è 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 avete la mappa eh bro guarda guarda dov'è il punto Salviano noi siamo stati qua fra è una strada sono due minuti guarda guarda dov'è la Leccia qui guarda guarda è oido club in mezzo fra oh ma siete normali guarda dov'è Scopaglia guarda Salviano Scopaglia la Leccia bro è una strada è una strada ti rendi conto che se apri Google Maps e scrivi Conad City si trova esattamente al centro tra Salviano la Scopaglia e la Leccia letteralmente un marciapiede di distanza punto fossi in te andrei a fare la fila all'Inps che magari una 208 te la porti a Casina ecco qua male male da Lucchesi posso dire che a Livorno ci sono almeno 6-7 posti dove mangiare fritto da sporto non ti hanno guidato bene davanti al bar quattro mori che era chiuso nello scorso video per esempio ci sono due baracchini un accanto all'altra che sono spettacolari chiuse entrambe a pranzo erano chiuse entrambe a pranzo ps copia e colliamo il nostro commento niente perdonate sicuro è colpa mia la presenza di questo ragazzo il mio parere rovino al scopo del video beh ci sta ha ragione nani sei sicuro di essere di volno? non ne è azzeccata mezza ehm si mi trombo tu ma tutte le sere la conosco prima il video di Tarvinzino era questo sulle fritture entrambe probabilmente fatti ad arte perché era un po' di spettacolo con l'ospite e si adatti piuttosto che andare alla ricerca di cibi buoni altrimenti non si spiega la scarsa qualità lo dice Antonio Caristo 16 ore fa o in anni era meglio se ti cavi in mano invece ci dai video con franchino vabbè ci sta fa sorridere e metto mi piace che mani con le mano? ahahahah aiii no no cioè ragazzi mi rispondo mio padre lascia stare i video con nanni ha rotto il cazzo ci sta mi piace basta video con nanni è noioso ha ragione dai due video inutili zero conoscenza dei posti e ancora meno simpatia il quattro è anche troppo generoso ha ragione si ma allora nanni non me ne voglia ma per mangiare Livorno non è buona una sega due video su due non riesce a farti mangiare due fritti in croce a Livorno via giù così sembra veramente che a Livorno non si riesca a mangiare un fritto per carità è vero che non è una cosa da sporto trovi in giro ad ogni angolo ma i posti ci sono allora però stai inventito la frase dopo il problema è che nanni è simpatico l'unico pisano simpatico ma non Livornese per favore franchino trova una persona che sape dove andare a mangiare e ridale a Livorno la sua gloria addirittura l'impero romano il sacro Livorno impero a stare dietro a nanni pare che a Livorno si mangi male davvero pessimo considerato che la realtà è opposta i posti dove andare li sceglie franchino è più Livornese la carvona la carvonara che nanni fosti scelti a casa neanche che corrisata in metà del suo momento se sceglieva franchino era meglio occasione fersa per colpa di quel pisano uno che si chiama leghorn sponderò leghorn che sia un commento su youtube o che sia un commento di chi segue la pil o di chi segue delle live di rubino al samsara voi dovete pensare che questa gente molto probabilmente se non in quell'esatto momento o anzi peggio da diversi anni dovrà votare vota o vota da 50 anni probabilmente voi dovete tenere in mente questa cosa c'è bro gente che non riesce a capire l'ironia di un video su youtube dove c'è un messaggio a schermo tutto il video detto è ironico cioè come possono pensare di capire non lo so Mediaset e Berlusconi ma viene un dubbio ma non è che nanni non conosce Livorno? probabilmente si franchino il tuo problema è che vai a fare questi video a Livorno con un pisano sicuramente lo farà apposta un'anima per far brutta figura a Livorno c'è il complotto siamo arrivati al punto in cui una persona si finge amico di un'altra fingendosi di essere di pisa per rovinare la reputazione di Livorno c'è ci rendiamo conto il diavolico piano il diavolo devil mastermind comunque quella è la leccia non salviano aspetta che modifichiamo il commento ecco qua e ricordiamo l'altro perché è quello più gettonato per adesso è però io padre io non ho veramente parole prima di dare giudizio siccome si mangia Livorno devi conoscere tutte le frigitorie e ristoranti si di tutta la città uno prima di fare un video dove dice che nei posti dove ha mangiato ha mangiato bene o male devi provarle tutte quante non capisco che senso hanno questi video decidiamo noi se una cosa ci piace o no non abbiamo bisogno che ce lo dica un disoccupato che fa ste merde di video io ho 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 mamma mia lancia razzi qua base raidata a Livorno esistono molti posti validi per fili fritto e qualsiasi persona che vive nella città li conosce ma giustamente Nanni da buon abitante di pisa ha deciso di scegliere i posti in base alle recensioni di google ha dipinto davvero un brutto quadro di una città che ha molto da offrire no i posti aperti a pranzo di metà settimana sono tre quelli che abbiamo visitato e stavano anche chiudendo tra l'altro ha dipinto davvero un brutto quadro di una città che ha molto da offrire a mani bassi hai detto peggior video franchino la prossima volta fidati ad un vero abitante di Livorno qua si ritorna questo è uno dei commenti più belli che io abbia mai letto in vita mia grande Nanni finite faccine che ridono minchia un mito con le sue motivazioni il posto dove ha ritrovato il motorino rubato questo è da zelig troppo divertente fra me l'hanno davvero rubato il motorino ce l'ho davvero ritrovata a salviano un mese dopo che divertente mi hanno rubato l'SH sotto casa a Pisa l'ho ritrovata a Livorno a salviano che cos'è dov'è la battuta ma si si questo è il mio account da telefono si ok cucinate voi le cose grazie grazie va bene sì è arrivato il è arrivato il Einstein della situazione Alberto birrotta non dai oggi si difficile fra è difficile veramente è difficile Ti prego non fare mai più video con sto tipo qua Oltre ad essere antipatico con un calcio sugli stinchi La qualità dei tuoi video ne risente sensibilmente Perché non è mai serio Né in ciò che dice Né in ciò che fa Cioè è evidente che prende roba appositamente di merda per memare Tra l'altro facendolo male Ok Ricky Gervais Oh attenzione Fra mio padre ha commentato due volte Alberto Pirotta Aviation Power Attenzione a non sfondarsi il fegato con i fritti Johnny Paranza Che commento è Me coglioni che scrive Johnny Paranza Nanni nanni Si vede che è un pisano L'ha fatto apposta per sfigurare la nostra bella Livorno Fra posso essere di Livorno E abitare a Pisa O è vietato Per legge TS Open call Ma poi per giustificarti Dici è il Livornese che il giorno non c'ha voglia di fare niente Ma siete il cretino che deve stare a letto Ma Puppami il cazzo Demette Questo è un pochino più offensivo Ma cosa c'entra questo nanni con Livorno? Non sai neanche cosa fanno i posti dove l'ha portato E devi guardare le recensioni su Google Ma che vergogna sei Sei imbarazzante Adesso siamo arrivati Che è una vergogna Guardare le recensioni su Google Figurati Se nel 2023 Qualcuno si permette Di vedere le recensioni su Google Una vergogna umana Finto Livornese Copa e colla Qui siamo solo a 23 ore fa eh Nanni Un capisce una sega Fra chi lo tra Livorno ti porta a mangiare io i fritti Veri di Livorno Non siete a Salviano Ma alla Leccia Eccolo qua Aspetta che Cambiamo il copia e colla Immagina scambiare Salviano con la Leccia Copia e colla Aspetta che qua mi sa che bene Non è questa Franchino Forse uno Uno Intellettualmente onesto Franchino Hai capito perfettamente L'essenza culinaria Della staganza maggioranza Di bottegai livornese Livornesi L'offerta è per lo più di bassissimo ordine Quasi sempre affidata a materie prime congelate Precotte su cui fare facili e rapidi guadagni Ci sono alcuni posti buoni Ci sono alcuni buoni ristoranti Che giustamente si fanno strapagare Vista la differenza con la sciatroneria Imperante Comunque Ci genera nel mio avviso Ti c'è a sui coglioni Te l'ha voluta far pagare Per qualcosa che non so Se non si spiega Perché ti riporta i simili postacci E ci sta però Nel senso Ha senso questo commento Ti prego Franchino Non portare mai più Sto mega ignorante sul canale Nanni male male Non so chi Non so chi sia Ma sembra tutto Tranne che Livornese Lo dico da Livornese Già il fatto che Luca Zena rolla Già il fatto che Nel secondo posto Tra le alici Tra parentesi Gesù Cristo E le chele di granchio Tra parentesi Barabba Abbia scelto le chele Ci fa capire Quanto ne capisca Nanni Mi ripugna a metterlo Ma mi confronto Atrix e Luigi Veronelli Le alici Erano In Busta E Congelate Pure Quelle Sono tre video che fai con questo Brucia lì Impossibile Nel suo canale Scegliere Con chi fare video Fra Non scegliere in base ai tuoi comodi Come no Nel mio canale Non so C'era Nanni Ma se è venuto a Livorno Facci queste belle figure Vote tre Altro che quattro Franchino Trova un nuovo cicerone Soprattutto Livornese Posso Devo andare Scegli Franchino Attenzione Alessio De Fazio Commento serio Dico la mia Dici Alessio Prima Nanni mi stava abbastanza sul cazzo Giustamente Ma l'ho rivolutato molto con gli ultimi video Mi dispiace Chi si lamenta Soprattutto i Livornesi Non capisce proprio un cazzo Vabbè ora forse un po' troppo Alessio Insomma Un po' arrogante Ogni tanto i video simpatici di rettetti come questo E quello con altri che sono fondamentali In questo video comunque riescono a consigliare un gran posto Dove provare dei fritti E un altro da evitare Nonostante recensioni positive E già questo per me significa che il video è riuscito Oltre a questo riescono a dare a quella nota di ironia e divertimento Che non è scontata L'imprevisto finale mi ha fatto ridere per cicluti abbondanti E Nanni riesce davvero a reggere bene Franchino come spalla Probabilmente si trovano proprio bene tra di loro anche fuori dai video Quindi invece che lamentarmi Nemmeno foste i fondatori di Livorno Che probabilmente quando c'è qualcosa di importante a livello comunale Siete pure i primi a sbattere nel cazzo della vostra città Non c'è niente Te lo assicuro io Alessio Una cosa che c'è a Livorno è Effetto Venezia Che è una stessa fiera che va avanti da tipo cent'anni E dove canta Bobo e Rondelli davanti a dieci persone sedute Di cui tre sono i miei nonni E a sbattere il cazzo della vostra città Godetevi il video Fatevi risate e rompete i coglioni Bravo mio padre Alessio La Leccia Ma che salviano Pisanello Ma basta Non risponderò più L'ultimo L'ultimo Poi basta che diventa veramente troppo Questo è mio padre Dal Livornese Sono davvero offeso Sono coltellate al cuore questi video Consiglio mio Fatti seguire da qualcuno che veramente ci capisce di cibo Se un tizio ti porta nei peggio posti della città Quei posti non descrivono la città stessa Nanni Te lo dio alla Livornese Ma ti levi di Ulo PS A proprio 655 Ti mancava assaggiarlo dal leone Sempre a Salviano Tra l'altro posto che gli ho consigliato Perché non ha seguito Franchino Rispondo Così È tosta eh È veramente tosta Sono felice Dio buono Ci ho fatto un po' su Instagram Un'ora di live Meglio dico così